Ben ritrovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Cesare Martignan. Il traffico scorre regolare al momento su tutta la rete stradale e autostradale della Toscana. Infipili ralentamenti disagi per lavori tra Ginestra e Montelupo in entrambe le direzioni. Nel raccordo autostradale Siena-Firenze in direzione Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Donato e Tavarnelle, e tra San Casciano e l'allacciamento a Uno Firenze in Pruneta. Per la statale Aurelia segnaliamo agli automobilisti in direzione Roma fenomeni temporaleschi all'altezza di Civita Vecchia. Si raccomanda la massima prudenza. Nella zona del Gignoro a Firenze si segnala la chiusura di via del Guarlone per incidente. Stessa situazione in via della Pergola, angolo via degli Alfani. Per gli utenti dei servizi di trasporto pubblico ricordiamo a tutela della propria salute l'obbligo di indossare la mascherina sui mezzi, mantenere il distanziamento di almeno un metro dagli altri utenti e lavare e disinfettare spesso le proprie mani. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Meropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!